Uno straordinario incontro di carattere medico-scientifico in programma domani a Cosenza. Si tratta di una live surgery di aggiornamento in oncologia sviluppata attraverso un incontro teorico-pratico sulla prevenzione e la cura del cancro della mammella. L'iniziativa si svolgerà all'Aria Hotel di Rende in collegamento audio-video con la sala operatoria della Casa di Cura alla Madonnina di Cosenza, struttura degli ospedali riuniti i Greco, per uno stimolante confronto nell'approccio alla patologia in tempo reale. L'incontro, organizzato insieme all'Istituto Europeo di Oncologia, a cui parteciperanno 25 relatori, metterà insieme i principali esperti di senologia. È un incontro tra amici che hanno il piacere di discutere e valutare l'evoluzione, quindi lo stato dell'arte del trattamento del carcinoma mammario e vedere anche qualcosa di pratico, quindi la possibilità di discutere in vivo, in diretta, interventi chirurgici e procedure radiologiche, interventistiche e di anatomia patologica. L'incontro sarà culturale, sarà scientifico, sarà innovativo, dove si evince che c'è un minore impatto chirurgico, una minore demolizione e deturpazione nei confronti della donna, che con calma, con serenità e con un apporto psicologico molto consono può affrontare questo tipo di malattia. Salvatore Bruno per la CNews24